Allora bene, noi adesso andremo a fare un'altra intervista qui. Perfetto, salve, eccoci qua, potrei farle due domande così e chiederle nel costruito? Le domande qua le faccio solo io. Chi sei? Parla, rispondi. Veloce, Jones, mi chiamo Jones. Come mai qua a Play? Siamo venuti a fare delle interviste. Per che cosa? Chi ti manda? Mi manda... Chi ti manda? Nerd italiano. Io sono l'inviato. E tu dove pubblichi queste interviste? Vai su YouTube, cerchi... Se voglio ci vado. Sì, no, 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 assolutamente, se vuoi vai su YouTube e se vuoi... Se vuoi cosa? E se vuoi digiti Nerd italiano lo trovi... Dove le devo mettere queste... Ok, e poi... Ti devo dire altro? No, grazie. Prego. Puoi andare. Posso andare. Ok. Dai, veloce, veloce, dai. Ok. No, grazie. Grazie a tutti